lo yoga sciamanico è lo yoga della potenza della meraviglia dell'estasi la scuola di yoga sciamanico dell'immagine all'academy l'accademia degli immaginalisti è la prima al mondo l'unica vera autentica ha sede in svizzera ma anche in italia in giappone negli stati uniti a vienna diventa maestro di yoga sciamanico ti darà moltissimo